Grazie Presidente. Anche da parte mia tutte le più sincere congratulazioni per il lavoro del collega Ferber. Credo che a questo lavoro abbiano collaborato altri colleghi impegnati. Non penso che in realtà, per quanto delicato e complicato sia stato questo lavoro, si sia trattato di un duello all'alba dietro il convento fra il collega Ferber e il collega Simpson. Non si trattava di intrecciare le spade, si trattava di prendere atto che si tratta di un settore sensibile. Come sensibili sono tutti i settori in cui l'offerta non può essere orientata soltanto dalle convenienze economiche, ma anche dall'esigenza di rispondere ad interessi di carattere generale, che possono andare al di là delle soluzioni che normalmente si trovano nell'incontro fra domanda e offerta orientato soltanto dal mercato e sulla base di convenienze di mercato. Vi era da raggiungere un punto di equilibrio difficile, visto che la riforma, come è stato già detto, l'ha detto il commissario, l'ha ricordato il collega Ferber, non viene attuata per il mercato, viene attuata nell'interesse dei consumatori. Il mercato può essere soltanto uno strumento per raggiungere e garantire al meglio questo interesse sotto il profilo di una riduzione dei costi e della qualità dei servizi. Anch'io ritengo che il vecchio assetto dei monopoli non fosse adeguato a rispondere alle sfide, ma guai a noi a immaginare in questi casi che l'unica risposta si risolva nella apertura alla competizione al mercato. Questo è un passaggio, ritengo, utile, fondamentale, importante, non sufficiente. Da qui anche la ricerca che si è fatta di garanzie per il servizio universale, con diverse opzioni, evitando rischi di ambiguità interpretativa e di contenzioso che probabilmente non abbiamo del tutto scongiurato. vi sono diverse opzioni, tutte orientate alla esigenza, tenuto conto delle diversità che esistono nei vari mercati, comunque di trovare la possibilità di concorrere ai costi netti di un servizio che non sarà mai garantito in molte situazioni esclusivamente attraverso l'operazione di mercato. A questo fine è decisiva, come è stato ricordato, una concorrenza equa. Io non condivido il sospetto nei confronti delle dinamiche di autorizzazione e di licenza considerate quasi una ghigliottina impropria per impedire o soffocare la concorrenza. Possono essere strumenti utilissimi per garantire qualificazione d'impresa, per garantire che la competizione avvenga liberamente ma avvenga entro un quadro di regole che sotto il rispetto delle normative sociali, di sicurezza, di qualificazione professionale, di definizione dei servizi sostitutivi e di prescrizioni nell'interesse generale possono riguardare in modo trasparente tutti gli operatori del settore. E anche questo sarà uno strumento per evitare che chi è gravato aglioni del servizio universale salga sul ring della competizione con le mani legate dietro la schiena. Grazie.